I diritti sono lo specchio e la misura dell'ingiustizia, ma anche lo strumento per poterla combattere. Studio 3A dà valore ai diritti. I diritti dei cittadini vanno preservati, difesi, costuditi, alimentati con la memoria e il lavoro di chi quotidianamente si batte per vederli rispettati. Studio 3A ha ben compreso il valore e il fine della propria azione. Diventare una guida e un sostegno per la tutela dei diritti di tutti i cittadini, uno scudo importante e un'arma efficace. Una solida squadra che vanta una fita rete di professionisti specializzati e selezionati. Una squadra riesce a vincere quando le strategie sono condivise, quando la squadra è coesa ed efficace. Questi siamo noi, questo è Studio 3A. Studio 3A è il miglior partner per garantire il rispetto delle condizioni esercitorie con efficacia e rapidità. Studio 3A, dati alla mano, fa precipire in media i nostri assistiti il 100% in più rispetto alla prima stima dell'assicurazione. La giustizia non può avere una forbice così ampia. Il giusto risarcimento non può essere una cifra a risparmio. Noi, unica società per le azioni del settore, siamo in grado di porci faccia a faccia con questi colossi e pretendere ottenere il giusto riconoscimento. I diritti sono davvero una cosa seria. Noi abbiamo la responsabilità di aiutare i nostri assistiti a far valere le proprie ragioni. Un'azione esercitoria vincente richiede un'attenta pianificazione della migliore strategia. La squadra che mettiamo in campo viene accuratamente selezionata, scegliendo i professionisti più adatti per consentire alle persone di essere tutelate al meglio e ottenere così giustizia. Un pool di esperti coordinato dalla direzione generale, con il quale l'assistito è tenuto sempre in contatto dal proprio consulente personale. Noi consulenti regali rappresentiamo per i nostri assistiti l'interfaccia con l'esterno. Siamo a loro disposizione per ogni loro problematica H24, anche a domicilio. Il studio 3A vanta di una fitta rete di professionisti, formati all'interno dell'azienda, dipendenti dell'azienda stessa, con una formazione oltre che tecnico-giuridica, anche con una preparazione umana e psicologica di primo ordine. Il ruolo di consulente legale, consulente personale in quella famiglia, è un ruolo importantissimo perché è l'interfaccia con l'esterno, proprio perché c'è un percorso burocratico pesante che in quel momento la famiglia non è in grado di affrontare. Loro non sanno come muoversi, non sanno a chi rivolgersi. Il consulente legale è un mediatore tra la famiglia e l'area legale, che parla la loro stessa lingua. Il rapporto che si crea con le famiglie è un rapporto speciale, unico. È facile passare da una stretta di mano ad un abbraccio. È un lavoro, ma è un importante servizio che diamo ai cittadini. Noi consulenti legali siamo a diretto collegamento con la direzione generale quotidianamente, grazie a strumenti tecnologici e l'avanguardia. La semplificazione dei flussi di lavoro è fondamentale per fornire un servizio di primo ordine, rapido e capillare. Ed è per questo che, seguendo i nostri principi di trasparenza, abbiamo creato un'area riservata che possa garantire ai nostri assistiti di monitorare in tempo reale l'evoluzione del proprio caso. È quel qualcosa in più perché effettivamente è l'assistito o il professionista che di sua spontanea volontà dice io voglio vedere determinate informazioni, quindi me le vado a cercare direttamente senza andarle a chiedere a qualcuno. Ma l'attività di Studio 3A non si ferma solo alla sua lotta quotidiana per far ottenere il giusto risarcimento ai propri assistiti. Qui diamo valore ai diritti. E lo facciamo in molti modi. Infatti, tra i vari brand di valore, ce n'è uno dedicato espressamente all'attività legate alla sfera del sociale. Tra Insieme, un brand con il quale diamo sostegno a molteplici associazioni, case famiglie e scuole. Inoltre, siamo in prima linea a sostegno di due importanti realtà di sport per persone con disabilità. La Studio 3A Millennium, iscritta al massimo campionato nazionale di basket in carrozzina, e i Black Lions, squadra di hockey in carrozzina. Tutto sommato, sia noi di Studio 3A che entrambe le squadre lavoriamo nella stessa direzione. Cerchiamo di garantire un futuro a chi ha subito un grave danno o a chi è stato meno fortunato di noi. Studio 3A si batte per questo.